Come vi avevo già raccontato nei video precedenti, io, Shova Tatiana, sono stata vittima di traffico di organi in due ospedali italiani. La prima volta nel 2019 all'ospedale di Cona di Ferrara e la seconda volta nel 2020 all'ospedale Borgo Trento di Verona. Nel 2019 all'ospedale di Cona di Ferrara, io, Shova Tatiana, mi ero sottoposta ad un intervento estetico al seno per aumentarlo con le protesi mammarie. Durante questo intervento il chirurgo Ilaria Pezzini, mentre ero sotto anestesia generale, mi ha fatto interventi illegali in tutto il corpo e mi ha asportato illegalmente le parti sane dal mio corpo, organi, muscoli, tendine, ovociti, gameti, eccetera, per venderli. Il chirurgo plastico Linda Bui e il dottor Marco Riva del comune di Coparo in provincia di Ferrara hanno acquistato illegalmente alcuni dei miei ovociti gameti che mi ha asportato illegalmente il chirurgo Ilaria Pezzini. Il chirurgo plastico Linda Bui, assieme al dottor Marco Riva, con i miei ovociti gameti che hanno acquistato illegalmente, hanno fatto nascere una bambina di nome Stella Bui. Il chirurgo plastico Linda Bui non è la madre di Stella Bui perché io, Sova Tatiana, non ho dato nessun consenso di donazione. Stella Bui è mia figlia e io, Sova Tatiana, sono la sua madre biologica e legittima perché Stella è nata dai miei ovociti gameti. Il chirurgo plastico Linda Bui, assieme al suo compagno, dottor Marco Riva, sanno benissimo che Stella Bui è mia figlia. Mi rivolgo al chirurgo plastico Linda Bui e al suo compagno, dottor Marco Riva. Sappiate che mi riprenderò mia figlia Stella Bui e voi due risponderete penalmente per quello che avete fatto. Tu, Linda Bui e tu, Marco Riva, siete coinvolti in traffico di organi state tenendo illegalmente mia figlia Stella. Nel tribunale di Ferrara non vi potranno proteggere per sempre. Prima o poi, la giustizia dovrà fare il suo corso e io mi riprenderò mia figlia Stella. Mia figlia Stella Bui è vittima di traffico di organi come me. Vi dovete vergognare per quello che ci avete fatto. Mia figlia Stella Bui non sa nemmeno che ha altri fratellini e sorellini nati dai miei ovociti gameti che mi ha asportato illegalmente all'ospedale di Cona di Ferrara e all'ospedale Borgotrento di Verona. I fratellini e le sorelline di Stella Bui sono Lunamari Rodriguez, Vittoria Ferragni, Enea Turragni, Gabriele Ciavaro, ecc. Sappiate che io sotto Tatiana mi riprenderò tutti i miei figli indietro e le persone coinvolti in questo traffico di organi saranno pugniti penalmente in base ai riati che hanno commesso.